lunedì 25 settembre 2003 dalla terrazza della marinella di santagnello per raccontarvi questo tempo un po uggioso ma tende ad aprirsi abbiamo al centro del golfo a borealis fredd olsen la guardiamo con attenzione sempre perché è stata costruita in italia un quarto di secolo fa e di questa compagnia inglese fredd olsen che carica direttamente a liverpool compie un giro esplorativo nel mediterraneo occidentale e poi riconsegna i suoi passeggeri a liverpool lo fa sia in direzione mediterraneo sia in direzione canarie e sia in direzione canada tutto l'anno per tutti gli anni intanto ieri le vele hanno goduto di una prima mezza giornata dedicata al premio regina giovanna esattamente 26 anni fa è stata costruita rimane nave con tanti spazi comuni quasi tutti coperti l'indice della sua stagionalità prevalentemente poco soleggiata l'indice della sua stagionalità che siamo costruita in attenzione